Per gli amici elettori di Vivi Casa Giove siamo con Francesco Grand, tesoriere della BCC Lab, il network dei giovani soci della banca di reddito cooperativa di Casa Giove, nonché promotore di questa bella iniziativa. Allora Francesco, come nasce questa prima edizione del Casa Giove Sport Fest? Ciao, grazie. Allora, in pratica questa manifestazione nasce di un principio molto semplice. Infatti questa è la dimostrazione del fatto che da un'idea semplice, come quella di portare lo sport in piazza, si possono regolare belle cose. e in particolar modo nasce dal fatto che vogliamo dare importanza alla cultura dello sport, principalmente portare il principio sportivo fin dai primi anni di età e basarci sul fatto che è importante praticare sport per due punti di vista. Sia quello sportivo legato all'importanza di praticarlo dal punto di vista metabolico, ipertrofico, eccetera, eccetera, sia dal punto di vista prettamente sociale. Noi visto che l'abbiamo organizzata con la commissione sociale dei BCC Lab, proprio dal punto di vista sociale diamo questa importanza, ovvero il bambino che pratica sport aiuta a confrontarsi con i più piccoli, aiuta a confrontarsi a dare un punto di vista sociale della sua appartenenza appunto alla comunità. Quindi questo è il nostro principio fondamentale. E poi volevo ricordare che l'organizzazione è stata anche fatta grazie alla prologo di Casa Giove, che ha dato una grossa mano e volevo anche ringraziare la città di Casa Giove che ci ha permesso, ci ha dato il suolo pubblico e la banca di rieto cooperativo che ci ha dato il substrato fertile per poter allestire quello che vedete, insomma. Beh, l'organizzazione di oggi dimostra che se facendo sinergia con tante realtà, le numerose realtà che sono attive su questo territorio, è possibile davvero creare qualcosa di importante. Esatto, infatti io credo che questa sia stata forse l'unica volta dove due gruppi di giovani, perché di giovani parliamo, fanno qualcosa per altri giovani. Questa manifestazione è la vera festa dello sport, è una festa per i più piccoli e i più giovani. Due gruppi, BCC Lab, che siamo i giovani soci della banca di rieto cooperativo di Casa Giove e la prologo di Casa Giove, sono tutte ragazze molto in gabbagioni. Ci siamo uniti, abbiamo creato questa sinergia che ha portato a questo frutto meraviglioso, a questa convivialità che si è creata oggi di ragazzini che si sono divertiti e questa per noi è stata la vittoria. Avremo la possibilità di replicarla questa manifestazione magari già in tempi brevi? In tempi brevi non lo so, forse ci stiamo pensando a ottobre di simulare un qualcosa di simile. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di creare una cadenza annua, infatti se avete notato questo abbiamo nominato spesso che è il primo Casa Giove Sportfest, speriamo che l'anno prossimo si possa replicare magari anche meglio, anche se siamo davvero molto soddisfatti del risultato. Grazie Francesco. Grazie a voi. Grazie a voi.